Amici sportivi, pugni chiusi e pronti alla rissa! Sta per cominciare una nuova puntata di WWE SmackDown! Shinsuke Nakamura! Il re dello Stronger Style, l'artista giapponese, ha vinto il Royal Rumble Match e ha deciso di affrontare AJ Styles in quel di Vrestelmania. Ma attenzione, perché dalla Royal Rumble sono usciti con le ossa rotte sia Sami Zayn che Kevin Owens. E adesso i due superamici canadesi che cosa faranno? Romperanno ancora le scatole a AJ Styles e Nakamura sarà disposto ad allearsi temporaneamente al suo futuro avversario per sconfiggere, per mandare via definitivamente i due canadesi? In ambito titolo degli Stati Uniti c'è molto fermento, perché saranno in quattro a darsi spallate nel tentativo di diventare i primi sfidanti di Bobby Roode, il quartetto, il poker dei pretendenti comprende Kofi Kingston, Rusev, Zack Ryder e Jinder Mahal. E questo match potrebbe essere di capitale importanza per il loro avvenire. Dunque io mi aspetto combattività e spettacolo. E mi aspetto anche tanta, tanta, tantissima voglia di rivincita da parte di un grande deluso del Royal Rumble match, il vincitore dell'anno scorso, Randy Orton, che praticamente è rimasto a bocca asciutta. Però conoscendo il predatore supremo sono certo che subito si metterà in moto per fare modo di ritornare in alto a SmackDown. Ebbè, è insito nel suo DNA. Io vi ricordo, chiudendo le anticipazioni, che ai nastri di partenza abbiamo anche molti degli altri vostri beniamini, come gli Usos, Charlotte Flair, Benjamin Gable, la Riot Squad, Becky Lynch e poi Daniel Bryan e Shane McMahon. Che forse... La storia infinita. Forse, grazie alla Royal Rumble e alla vittoria di Nakamura, forse un pochino si sono riavvicinati, forse, anche se io non ci giurerei. Non ci giurerei, lo sapevo. Insomma, ragazzi, non ci resta che a propinquarci a vedere che cosa succede. Come ti a propinquire. Sì, ma non ci sono le pazze. Tra poco, qui su Sky Sport, è tempo di WWE SmackDown! Orna, yeah!